Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Cufie, chiuse Sony MDR-XB600 Cufie. Sony MDR-XB600 Byte Nero Cufie con archetto, da 220 grammi con design pieghevole, driver al neodimio da 40 mm e advanced vibestructure. Prova i bassi vibranti per ogni stile musicale. Note basse pure con advanced vib, strutture, stile e comodità in viaggio con il design pieghevole. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.